Inizio alle ore 9.30. Sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 110. Come risulta, dall'elenco depositato presso la Presidenza sarà pubblicato nell'allegato a resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento e per questa ragione io adesso sospendo la seduta che riprenderà alle ore 9.55. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie. Grazie.